Vittorio, tu sei di quelli che si fa ammanettare volentieri o sei un po' bigotto come me? Io considero questa umanità inferiore, per cui ho un atteggiamento, anche l'altro giorno una ragazza... Gli ammanettatrici o gli ammanettati? No, mi ha minacciato, dice vorrei frustarti, dico tu sì. Vedi, mentre parlavano è arrivata questa immagine qua, di una ragazza... No, c'è quest'idea all'ospedaliera, di cui hai delle protesi, che sembra di essere curati da un medico che ti mette un affare che non è... E poi tra l'altro, nel fatto che le donne abbiano una fantasia sfrenata in questa direzione rispetto al povero uomo nella sua misera attività fisica, con il suo piccolo fallo basico... Io non ho mai visto un uomo girare con un correndo... Con un misero fallo basico, stiamo distruggendo... Con un correndo di falli fri, ho visto centinaia di donne che mi hanno portato falli finti, falli di vetro... No, perché tu frequenti donne... No, no, le donne, frequento migliaia di donne, ho detto centinaia... Te lo raccontano, che ci sono tanti frequentatori uomini, tutto questo nasce in un immaginario erotico, che è prima di tutto maschile... No, no, no... No, esattamente maschile, ricorda... Raccontando la sua testimonianza, però non manomettiamo il dato che... Ma non si generalizziamo... No, no, no... Io ho detto, io ho conosciuto e ho avuto rapporti con migliaia di donne, non centinaia, migliaia... Quindi per la giovane ho avuto diciamo 1800 spirituali e 126 legate agli strumenti che ti ho detto, quindi è una percentuale minima, ma io non sono mai andato con strumenti, con manette, con fruste, con falli finti... E invece loro sono dotate di quelle strutture, che fate visto, lì non c'era un cliente maschio, che era una ragazza... E perché la consigliere inferiore, però questa era interessante, perché la consigliere una sessualità inferiore... Perché qualunque espressione amorosa che non sia legata ai sentimenti la trovo bestiale, io mi occupo delle anime delle donne, i corpi sono residuali, quindi... Se una donna ha una volontà di piacere puramente fisico non mi interessa, voglio che mi ami e voglio rubarle l'anima, non il corpo, il corpo è troppo facile... Luizè la ride perché... È l'unica cosa di cui mi occupo, io sono un ladro di anime, tutto questo ammanettamento, così mi sembra triste... Eh Luizè, ce l'hai questa... ti corrisponde questo... Cure, clisteri... Io ti vedo un po' poliziotta, in tre anni abbiamo condiviso tutto, ma non queste pratiche... Io dico solo che ha perfettamente ragione, le donne nella realtà, nel privato, si disegnano molto pudite, montesante, nella realtà sono scatenate, cioè le donne sono sessualmente dominanti, creano la situazione, prendono l'iniziativa, sovvertono le gerarchie, così è l'immaginario femminile un po' vittimistico appunto... Però attento, il Vittorio ha detto che è una forma di sessualità inferiore, una cosa che ci vogliamo immaginare... No, no, non delle donne, anche dell'uomo, cioè tutti gli uomini che si occupano di questioni fisiche mi sembrano essere inferiori, io mi eccito davanti a un quadro del 400... Una donna che si occupa... Cosa vuole aggiungere rapidamente?